Buongiorno a tutti, intanto grazie per essere qui oggi, siamo sempre contenti di vedere tutte le sale sempre piene, significa che gli argomenti vi stanno interessando, saluto anche chi ci segue in collegamento in streaming. Io mi chiamo Marco Massarotto, rappresento Aga Cure, che è l'organizzatore di tutta la social media week di questi cinque giorni e ho voluto essere qui oggi per presentarvi velocissimamente gli ospiti di questo panel, perché è un panel a cui tengo molto, anzi che ho voluto molto. Io mi occupo di comunicazione da molti anni, ma vengo da studi di giurisprudenza, che conservo nella memoria con affetto, intanto, ci sono anche alcuni compagni di università qui, anzi una, e con grande interesse, perché è una materia fondamentale per la società civile, per la convivenza, per il business, è una materia che ha infinite applicazioni e notevole rilevanza anche nel mondo specifico dei social media. Si contano i divorzi nati da interazioni online, le cause di licenziamento, i contenziosi relativi alla proprietà intellettuale, o di una nostra fotografia o di items e asset appartenenti a dei brand e delle aziende. Credo ci sia una totale mancanza di consapevolezza nei navigatori italiani dei potenziali risvolti legali, voi perché magari passano sotto traccia o voi perché non è stata fatta educazione al riguardo, e credo ci sia anche molta letteratura, prima che giurisprudenza speriamo, da scrivere per le aziende e quant'altro. Oggi abbiamo radunato esperti del settore a vario titolo, Daniele Minotti, da sempre attento ai temi del legale e del digitale, farà da moderatore, abbiamo con noi Gualtiero Dragotti, che si occupa di intellectual property, che ci racconterà una chiesa di storie molto interessante, Giovanna Bagnardi, dello studio De Berti Iacchia, e Franchini Forlani, che si occupa di intellectual property, anche lei, che ci parlerà di alcuni argomenti inerenti ai contenuti multimediali, che saranno sicuramente di grande interesse, Elvira Berlingeri, credo che l'ha conosciata da sempre tra i temi della legge 2.0, autrice anche di un interessantissimo libro, e gli avvocati Andrea Prati e Maria Elena Succetti, dello studio Bernardini De Pace, che non credo abbia bisogno di presentazioni, e che si occupa di diritto di famiglia. Io vi lascio in compagnia di questi ottimi e eccellenti ospiti, e vi inviterei di salutarli con un applauso, e ascoltiamo cosa hanno da dirci. Allora, buonasera, Daniele Minotti, direi che è già stato detto tutto, e quindi non togliamo tempo a voi e ai nostri relatori. Gualtiero Dragotti, subito ci parlerà di pirateria digitale, del caso Avaxom Mondadori, free come gratuito, e free come libero, distinzione importante. Grazie, Gualtiero. Grazie. Grazie, buonasera. Come ci siamo. Allora, come avete sentito, il mio intervento parte dal caso Avaxom, ma non vorrei limitarmi solo a questo, anche perché il caso Avaxom, di cui forse avete letto su giornali e periodici, in realtà, a mio avviso, è un punto di immersione di una tendenza che negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ma soprattutto negli ultimi mesi, si è fatta particolarmente evidente. Se infatti noi guardiamo la cronaca giudiziaria dal novembre di quest'anno ad oggi, noi vediamo che oltre al caso Avaxom, che ha avuto per oggetto il sequestro e l'oscuramento di un sito che consentiva la distribuzione di contenuti multimediali, in particolare editoriali, quindi giornali, riviste e anche e-book. Abbiamo visto anche il caso Torrent Reactor di poco prima, dove è stato ugualmente disposto l'oscuramento di un sito che invece si occupava più della diffusione di contenuti audio-video. e invece poco dopo Natale abbiamo avuto il caso streaming Mediaset, dove questa volta a essere colpiti erano un grande numero di siti che si occupavano della distribuzione di eventi sportivi, della possibilità di assistere ad eventi sportivi tramite tecnologia streaming o indifferita. Quindi cambiano gli oggetti della tutela, non cambia il tipo di provvedimento e il tipo di reazione dell'ordinamento che è stato sempre lo stesso. Tanto che, tra l'altro, abbiamo anche dei casi più recenti, proprio da cronaca di questi giorni, un recentissimo ulteriore sequestro di un sito che di nuovo si occupava di diversi tipi di contenuti multimediali, download forum, e notizia di ieri, una sanzione molto importante sotto il profilo economico a un soggetto che di nuovo era impegnato in questo tipo di attività. Quindi noi stiamo parlando, ma le cose si stanno evolvendo molto molto velocemente. E anche se si evolvono velocemente, ci consentono però di avere, a mio parere, di cogliere alcuni punti fermi che si evincono dai tre provvedimenti che citavo prima. Il primo è la tipologia della reazione dell'ordinamento, la misura che abbiamo messo a fuoco e che ormai direi che è abbastanza consolidata. Sono condotte che coinvolgono soggetti che molto spesso, perlomeno dal punto di vista formale, operano all'estero, non possono essere agevolmente raggiunti dall'autorità giudiziaria italiana o da soggetti italiani, ed ecco quindi che è stata sviluppata la misura del sequestro tramite oscuramento. Non è una novità di questi giorni, ma in questi giorni si è arrivati a ritenerlo uno strumento consolidato di tutela. Così come direi che ormai è consolidato il fatto che la tutela possa essere disposta anche ai sensi della direttiva sul commercio elettronico. Questo si legge molto chiaramente in tutti e tre i provvedimenti che citavo prima. Gli stessi provvedimenti ci dicono però anche qualcosa di più. Se prendiamo il provvedimento Mediaset, ci dice anche che la gratuità, la carenza dello scopo di lucro della gente non è una scusante. Interviene ed è importante nella graduazione delle sanzioni, ma di per sé non vale come esimento, non vale a rendere lecita la condotta. Quindi abbiamo un apparato sanzionatorio che riesce ad essere anche adeguato alla gravità e alla tipologia di condotta che andiamo a sanzionare, cosa a mio parere molto importante. Sempre in tema di gravità di sanzioni, il provvedimento Avax, ma in questo è stato un provvedimento in una certa misura innovativo, per la prima volta che io sappia, ha introdotto in maniera forte il tema del reato di ricettazione in capo ai soggetti che sul primo illecito poi costruiscono un business ovviamente illecito. Ne parlo sotto il tema della gravità della sanzione perché, come forse alcuni di voi sanno, la ricettazione è punita molto severamente e rispetto alle pene previste dalla normativa sul diritto d'autore, la ricettazione prevede delle sanzioni molto molto gravi. Un altro elemento a mio parere è importante è che abbiamo avuto a che fare con siti, con fenomeni che avevano ad oggetto materiali diversi, dicevo prima, contenuti editoriali, contenuti multimediali, eventi sportivi e tecnologie diverse. Abbiamo soggetti che ospitano i contenuti sui loro server, soggetti che si affidano alla tecnologia torrent, soggetti che si limitano a indicizzare i link a contenuti che risiedono su server diversi. In tutti i casi la sanzione è potuta intervenire. Quindi abbiamo l'ordinamento che non si sofferma sulla tecnologia, ma va a vedere qual è l'effetto, come opera il sito rispetto agli utenti. Altro elemento molto importante. Abbiamo però anche un altro punto fermo che ha a che fare con le modalità con le quali le azioni sono state vissute, diciamo dal mondo web in generale. Ed è una reazione che è stata molto spesso, perlomeno in prima battuta, una reazione di critica. Critica e addirittura in certi casi un tentativo di suggerire agli utenti come aggirare i provvedimenti. Se voi fate una ricerca su Google, questa è di un paio di giorni fa, mettendo come parola chiave Avaxon voi troverete la notizia dell'oscuramento e subito dopo le indicazioni anche da parte di testate importanti su come aggirare l'oscuramento. Ora, questo tipo di reazione è abbastanza poco spiegabile, soprattutto se accompagnata a un'altra reazione molto forte che ha visto schierati in prima linea i provider che si sono subito battuti contro questo tipo di provvedimenti, arrivando nel caso Avaxon addirittura a impugnare il decreto di sequestro. Impugnazione che è stata richiata inammissibile dal Tribunale dell'esame di Milano che ha avuto peraltro occasione di chiarire che i provider in quanto tali non sono portatori di un interesse opposto al titolare dei diritti e quindi poi non hanno titolo per l'impugnazione. Ma al di là del tema giuridico di fondo è comunque una pronuncia molto importante, ce n'era stata solo un'altra che si era soffermata sul ruolo dei provider sulla possibilità per questi soggetti di impugnare e intervenire in questo tipo di procedimenti. Al di là di questo conviene secondo me in questa sede chiedersi perché vi sia questo tipo di reazione e a mio parere questa reazione deriva da una malintesa equiparazione tra gratuità dell'accesso ai contenuti e libertà di espressione nella rete. nella maggior parte dei commenti voi potrete leggere che questi provvedimenti ledono la libertà degli utenti di internet ma come la ledono impedendo la fruizione gratuita di contenuti illeciti. Ora la tensione tra gratuità e libertà non è una cosa nuova non la incontriamo oggi per la prima volta non ne parlo sicuramente io oggi per la prima volta ma è qualcosa che noi conosciamo da una ventina d'anni proprio nel settore dell'innovazione tecnologica e del software è stata approfondita proprio nel settore dell'innovazione tecnologica e del software partendo da un presupposto che è quello mal riassunto in quell'acronimo poco pronunciabile che vedete alle mie spalle che è Tini Staffel che sta per there is no such a thing as a free lunch vale a dire non esistono pranzi gratis non è possibile creare dei contenuti gratuitamente peraltro è il titolo di un libro di Milton Friedman che appunto si sofferma su questi temi ma non sono solo gli economisti che si sono soffermati su questi temi perché anche gli alfieri del software libero come Richard Stallman hanno per primi evidenziato come libertà e gratuità siano due soggetti due concetti diversi in inglese tra l'altro c'è una possibilità di un gioco di parole perché free come gratis free e free beer è cosa completamente diversa da free come libero vale a dire free come free speech ora non dobbiamo fare l'errore di confondere la difesa della libertà come free speech con la difesa della libertà come free beer anche perché se andiamo a vedere dove ci porta la difesa della libertà nel senso errato quindi nel senso solo della gratuità a mio parere ci accorgiamo appunto che andiamo a incidere sulla filiera di creazione e distribuzione dei contenuti e andiamo anche a incidere forse sulla ancora un minuto mamma mia andiamo a incidere anche sulla libertà degli utenti andiamo a incidere anche sulla libertà degli utenti e forse a compromettere anche ulteriori vabbè semmai ci sarà spazio per le domande anche a compromettere ulteriori evoluzioni tecnologiche e non è una mia petizione di principio una mia speranza ma in realtà è qualcosa di cui possiamo avere contesa se guardiamo quello che è successo nel settore della musica che per primo è stato esposto a questo tipo di fenomeni noi abbiamo avuto un primo periodo di diffusione gratuita o quasi gratuita di contenuti peraltro da parte di soggetti che avevano effettivamente un'etichetta non a scopo di lucro come poteva essere Napster e solo quando questi soggetti sono stati messi a margine del mercato Napster adesso è tornato sotto altre vesti abbiamo potuto avere un fenomeno come è stato iTunes ma come oggi sono uguali fenomeni gestiti da Google o da Amazon che consentono davvero agli utenti la fruizione di contenuti in maniera sicura con una completa accessibilità un catalogo molto molto vasto e con una attribuzione corretta del valore a tutta la filiera cosa che ha consentito anche ulteriori investimenti è notizia dell'altro ieri che in Italia è stato lanciato il servizio Spotify che ha atteso di essere lanciato proprio perché fino a che sono presenti sul mercato dei soggetti che si pongono al di fuori di questa filiera virtuosa ovviamente gli investimenti rimangono alle porte quindi se nel settore dell'editoria perché mi sono occupato del caso Avaxon ma più in generale nei settori che ho trattato prima non si arriva a una marginalizzazione dei soggetti che si muovono in maniera illecita è molto difficile che gli investimenti creino valore e creino alla fine delle opportunità anche per gli utenti quindi per farla breve visto il tempo la difesa della libertà come as in free beer quindi della sola libertà di copiare a mio parere è perdente rispetto alla difesa delle vere libertà che sono le libertà di creare di eccedere di condividere di innovare e direi anche di investire anche a beneficio degli utenti basta grazie Gualtiero grazie bellissimo intervento anche se io avrei qualche tema critico ma non è la sede per litigare specie sul sul sequestro per l'oscuramento in realtà ti devo dire una cosa che il primo ad avere negata la legittimazione di sequestro fu io in una richiesta di reesame provocatorio sul caso Paret Bay comunque ne parleremo un'altra volta effettivamente io sapevo di non avere legittimazione passiva Elvira Berlingeri avvocato Elvira Berlingeri una dei primi blogger giuridici dopo di me qualche mese dopo legge 2.0 e il suo testo e questo dice lunga anche sulle sue competenze grazie grazie allora ho scritto anche un altro libro di recente evitare i rischi legali dei social media ma vabbè insomma tanto è sempre un po' lo stesso argomento allora io non presento slide perché ho intenzione di presentare questo mio breve intervento breve anche per contingentazione necessaria come se stessi dando un consiglio a un amico che mi fa una domanda questo anche perché chiaramente noi avvocati quando siamo nella nostra ecco perché volevo presentare un po' meglio Elvira le insidie dei social network ecco possiamo chiamarle così ci sono mi è piaciuto quello che è stato detto prima in termini di consapevolezza la consapevolezza è la parola magica con quella si fa tutto ve lo spiegherà Elvira della parte di vista grazie per la precisazione che effettivamente diciamo è un po' la chiave di tutto perché chiaramente senza consapevolezza non c'è consenso non c'è un'azione che è chiaramente significativa allora dicevo che io ho intenzione di presentare questo intervento come se fosse appunto un consiglio benevolo però anche efficace proprio perché mi rendo conto che la questione delle leggi che si applicano su internet o che soprattutto non si applicano ma che comunque esistono è diventata una questione assolutamente di nerd quindi c'è tecnica piena di terminologie sconosciute e più e soprattutto perché si tende molto a sottovalutare la presenza di leggi dal momento in cui queste leggi sono disapplicate cioè quindi i comportamenti conformi che tendono a fare sembrare che il diritto d'autore per esempio sia in sotto assolutamente non tutelato perché nessuno alla fine va in galera o non ci sono processi stessa cosa la questione della privacy sono cartacce da firmare ma poi alla fine le leggiamo mai capiamo mai quello che stiamo firmando oppure i termini e le condizioni di servizio cioè ora per andare su facebook se andate a guardare la normativa privacy praticamente vi ci vuole l'amico avvocato che vi vada a spiegare perché non è più un documento semplice è veramente una pagina sottodivisa in paragrafi con determinate conseguenze se poi andate a leggere i diversi comportamenti conseguenze che sono diverse per il developer per quello che fa gli ad e per l'utente quindi c'è è tutta una situazione di diversi soggetti che si interlaziano e si confondono tra di loro che dipendono l'uno dall'altro però nessuno sa in realtà che cosa sta facendo anche perché tutti siamo tutti cioè siamo tutti produttori di contenuto siamo tutti utenti ok allora ieri leggevo sullo streaming appunto degli interventi che venivano fatti uno status di Massarotto che diceva che social media saranno il perno di una nuova economia che sta emergendo quella della relazione con una frase che mi ha colpito molto e che ho trovato particolarmente interessante per il mio intervento perché è vero che quello che si sta cercando di fare è proprio riuscire a capire come sfruttare il fatto che siamo tutti connessi quindi sono un'azienda e posso avere una relazione col cliente questo mi permette di capire che cosa viene fatto del mio servizio quando è stato fruito cioè mentre prima io potevo semplicemente avere termini di gradimento referendomi a il venduto e il reso quindi una equazione molto semplice che mi diceva molto poco poi di quello che succedeva del prodotto quando veniva utilizzato io adesso ho la possibilità di avere una serie di informazioni totalmente inedite se pensiamo a un profilo Facebook che è già una qualificazione demografica del soggetto quindi so se un uomo una donna so quando è nato so il luogo di provenienza so dove ha studiato se ha studiato so quali tipi di relazioni sociali ha con chi il famoso grafo sociale so le sue preferenze sessuali il suo orientamento sessuale se l'ha messo le sue preferenze politiche e le sue preferenze culturali questi sono dati che chiaramente per l'analisi di social media marketing hanno un rilevo assolutamente interessante come demografica e targetizzazione dell'obiettivo ma se io vado poi a rapportarmi questi concetti sulla legge sulla privacy cominciamo a parlare di dati personali dati sensibili e quindi scattano tutta una serie di obblighi di legge che da un lato sono inattuabili e dal lato devono essere attuati allora quindi cioè com'è che possiamo dare possiamo cercare di consapevolizzare di dare un minimo di consapevolezza a tutti gli operatori cioè fargli capire che ci sono delle cose che devono essere osservate by design e due punti mi interessava in particolare toccare quest'oggi il primo è la responsabilità dello user generated content sotto il punto di vista della privacy cioè che succede quando è un utente a violare i diritti di privacy di un altro utente ok? ad esempio all'interno di una mia community quindi chi è responsabile l'altro invece sono i requisiti della profilazione da un lato dal punto di vista del consenso quindi vedendo anche come viene a rilevo la disciplina nuova in materia di cookie ok? che appunto cioè se pensiamo ai social plugin e le applicazioni sociali quindi come questi attraverso token identificativi riescono ad appropriarsi ad avere accesso a informazioni dell'utente sicuramente siamo nell'ambito previsto da questa disciplina e quindi sia dal punto di vista del consenso dicevo che dal punto di vista dei presupposti legali cioè la notificazione che è un istituto quasi sconosciuto e andrò a dire anche perché penso questo allora punto primo la relazione che si diceva ieri come media da esplorare e la relazione che la privacy poi alla fine crea legislativamente fra un'azienda e un'utente c'è un principio che informa tutto ed è il principio su cui si basa appunto la legge sulla privacy e cioè ogni persona fisica ha diritto ad avere controllo sulla circolazione dei propri dati se pensiamo che questo è il principio su cui la privacy si basa riusciamo a capire via via tutti gli istituti ora il collega prima di me ha parlato del decreto legislativo 70 del 2003 si tratta di un decreto importantissimo che ha reso possibile il commercio elettronico e che nel caso proprio di contenuto immesso dagli utenti contenuto illegittimo chiaramente crea una specie di barriera difensiva per il provider che questo contenuto lo ospita e sancisce come diceva appunto lui qualcosa chiamato safe harbor in dottrina cioè se il provider non ha dato origine a questo contenuto non è consapevole di queste liceità allora esce indenne ok da responsabilità chiaramente poi se c'è un ordine della magistratura non risponde allora in quel caso sarà responsabile perché non ha risposto questa cosa non si può applicare sulla privacy perché a livello comunitario e quindi anche nel decreto che ha recepito questa legislazione è fatto disposto a esclusione della disciplina in materia di dati personali quindi quando il mio utente sta violando la privacy di qualche altro utente che cosa succede visto che io non posso invocare queste cautele che esistono invece per altri ambiti come il diritto d'autore e qui è la legge sulla privacy che ci aiuta l'articolo 5 che leggo ma anzi non leggo così sono ancora più sintetica però al quale vi rimando sul sito del garante che è uno dei siti che dovreste veramente frequentare perché fanno veramente un grosso sforzo di divulgazione su tutto e dice che nel caso in cui un utente una persona fisica diffonda dati di un terzo quindi come diffusione la legge sulla privacy ha una definizione specifica cioè si tratta di svelare questi dati lasciarli al pubblico indeterminato quindi la pubblicazione su internet o su qualsiasi social media sicuramente rientra in questa definizione quindi in questo caso quando lo fa l'utente quando lo fa una persona fisica gli si applica la legge sulla privacy quindi gli viene riconosciuto il ruolo di titolare lo stesso ruolo che normalmente la testa legge riconoscerebbe alle aziende mi basta sapere che posso incolpare l'utente per un fatto che ha commesso lui questo già ma generalmente ci potevamo arrivare già da soli il problema è che succede quando l'utente è irreperibile e lì non abbiamo una giurisprudenza diciamo folta ovviamente su questa casistica però vale probabilmente è la pena citare il caso Google Vivi Down che ha visto nel 2009 condannare in primo grado e poi adesso recentemente assolvere in appello a giorni una settimana prossima dovremmo ricevere le motivazioni della soluzione tra executive di Google per una carenza dell'informativa ok e qui c'è un caso che sicuramente sarà isolato e che non possiamo certamente utilizzare come paradigma ma nella condanna di primo grado si diceva una cosa interessante e cioè che l'entità commerciale non deve abusare del fatto di poter nascondere le proprie informative oppure nascondere all'utente i rischi correlati all'uso dei servizi ora a prescindere dal fatto se sia legittimo o meno aderire a una concezione paternalistica anche dell'ente economico quindi se è la legge uguale per tutte l'ignoranza della legge non esclude perché ti devo dire io che non devi mettere dati di terzi fotografie dove c'è il tuo amico senza avergli chiesto prima il consenso però è pur vero che siamo in un momento di passaggio in cui si stanno creando delle prassi per cui sicuramente male non fa male non farebbe essere chiari su quali rischi ci possono essere se si caricano foto ad esempio se sto partecipando a un concorso eccetera dove ci sono anche dei miei amici che non sanno o non sono consapevoli che io sto inviando quella foto per farla pubblicare e divulgare ci ho detto parliamo dell'altro argomento appunto che mi premeva porre alla vostra attenzione c'è quello della profilazione c'è profilazione quando è una definizione proprio specifica all'interno della legge in materia di protezione dei dati personali abbiamo l'utilizzazione di dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volte a definire il profilo o la personalità dell'interessato oppure ad analizzare abitudini o scelte di consumo quindi qua chiunque abbia mai fatto social media analytics sa benissimo insomma come questo sia assolutamente uno degli obiettivi perseguiti ora se voi andate sul sito del garante ancora una volta noterete che esiste una c'è una procedura c'è un procedura diciamo c'è un requisito di legge che è necessario per poter procedere alla profilazione ok questo perché si ritiene chiaramente è che la profilazione per la possibile invasività sulla personalità dei soggetti quindi cioè definire una persona sotto profili quindi la possibile lesione dei diritti sia un qualcosa di particolare per cui il garante cosa vuole? vuole che venga fatta una dichiarazione ok per via telematica attraverso il sito dove viene dichiarato chi è il soggetto che sta profilando per quale finalità lo sta facendo con quale modalità lo sta facendo se esporto o meno data all'estero eccetera tutti questi dati sono pubblici se voi andate sul sito del garante cercando con la parola chiave notificazione accedete a questo registro dove potete vedere chi sta profilando che cosa e con quale modalità voglio dire questo è molto cioè è facile andare sul sito a capire quanti soggetti stanno notificando per una determinata finalità per la finalità di marketing sono all'incirca poco più di 8000 soggetti ora io su questo numero non voglio dare interpretazioni demagogiche proprio perché non avendo dei dati di raffronti su quante persone facciano soggetti facciano social media analytics è impossibile dire ok bene ok male però è chiaro che questo è un dato che va interpretato cioè per me è deprimente pensare che sono così pochi se siamo tutti a rispettare la legge ma ancora più deprimente pensare che molti lo fanno ignorando che invece avrebbero dovuto notificare ok e non notificare dal luogo una sanzione che può arrivare fino a 120.000 euro chiudo molto brevemente parlando appunto della questione del cookie dicendo che ok arriveremo molto presto a una norma regolamentare che ci chiarirà come dobbiamo farlo ma anche qui la pubblicità detrimentale che è stata fatta sulla cosiddetta cookie law in realtà è una legge che non dice niente di nuovo si parla ancora di consenso per cui dal momento in cui io sto trasmettendo per profilare questi dati a un terzo soggetto ad network o terza parte di un manner o qualsiasi altro tipo di programma inclusa l'affiliazione di cui si parla tantissimo in questo momento è giusto che l'utente che sta cliccando su questo link sappia che sta comunicando quei dati e per quale ragione quindi anche adesso anche su questo aspetto niente di nuovo sotto il sole grazie terminato in anticipo grazie adesso possiamo manco un po' chiacchierare se volete prego Giovanni allora social network e invasività dei social network abbiamo parlato in particolare con Elvira di privacy di atti personali l'avvocato Giovanni Bagniardi invece ci parlerà sempre di social network però di altri materiali per esempio le foto non più come dato personale ma foto come opera tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore grazie grazie a te Daniele buonasera a tutti volevo solo di condividere con voi qualche breve riflessione sul chiaramente la normativa sul copyright e su quanto sia difficile applicarla in questo momento soprattutto le nuove tecnologie e poi parlare brevemente diciamo delle fotografie quantomeno come sono tutelate e anche lì per evidenziare quale sono le difficoltà dell'utilizzo delle stesse nell'ambito diciamo dei social media ma in generale di internet innanzitutto sul discorso di internet volevo condividere questa cosa comunque con un caro amico che è anche un bravissimo manager della comunicazione ci siamo sempre scontrati sul discorso copyright e comunicazione perché è inevitabile che prima o poi si dovrà trovare un punto di incontro nel senso che la legge pare a quella attuale del 41 pare ormai datata e dall'altra parte comunque ci sono evidenze soprattutto nel mondo musicale che la condivisione invece anche libera o comunque diciamo non combattuta a suon di sequestri eccetera eccetera di file musicali come per esempio Falle di Gaga in realtà abbia portato alla stessa un'innegabile notorietà che certo la mette in evidenza forse ha fatto anche forse meno fatica di quanto abbia fatto Madonna sebbene siano due ottimi pop star però Madonna ovviamente appartiene agli anni Ottanta è ancora una star molto quotata ma è innegabile che si parlasse di tv si parlasse di riviste si parlasse diciamo di più editoria adesso Lady Gaga chiaramente non si oppone spesso alla condivisione di file musicali perché questi file musicali questa condivisione di file fa sì che la stessa abbia un numero di follower talmente incredibile da rendere talmente popolare che in ogni caso riesce a vendere la sua musica quindi è veramente una rivoluzione culturale su cui anche noi giuristi ovviamente abbiamo delle difficoltà ogni tanto perché forse tutti non lo sanno ma la legge sul diritto d'autore è una legge molto datata data 1941 ed è una legge che sussume diciamo regola qualsiasi tipo di opera dell'ingegno quindi si va diciamo dal libro semplicemente dallo scritto dalle fotografie ma anche ormai anche al design e con fatica negli ultimi 10-15 anni sono state inserite anche le banche dati e il software in modo che praticamente è un contenitore che scoppia ed è evidente che non riesce più secondo me a contenere anche o comunque non potrà contenere in qualche modo la normativa o un'eventuale normativa che dovrà essere predisposta prima o poi per regolare l'utilizzo del diritto d'autore nei social media e in generale su internet dico che non è un'operazione semplice perché sicuramente se viene fatta solo a livello territoriale avrà sicuramente dei limiti quindi dovrebbe essere a mio parere una normativa che o è paneuropea o comunque in un certo senso si basa su degli accordi tra diversi paesi come sono le convenzioni internazionali anche perché il concetto di diritto d'autore o di opera tutelata dal diritto d'autore è veramente anche a differenza degli altri diritti di privativa come marchi e brevetti assolutamente anche diverso da paese a paese è notoriamente noto appunto che la Francia sia uno di quei paesi dove quasi qualsiasi cosa è un'opera d'arte o un'opera dell'ingegno mentre in Italia la normativa è più ristretta tanto è vero che anche per il design è possibile che alcune opere che in Francia sono automaticamente tutelate anche dal diritto d'autore in Italia fanno fatica comunque a rientrare in questa tutela diciamo allargata e vengono semplicemente tutelate come design cioè che non è comunque non è male però sono 25 anni rispetto a 70 anni oltre alla morte dell'autore quindi comunque si tratta di problematiche abbastanza importanti il discorso delle fotografie l'ho scelto perché è un discorso che praticamente credo che tutti utilizziamo caricare fotografie o comunque abbiamo la tentazione di scaricarle in ogni caso forse non ponendoci troppe problemi su quali sono le conseguenze e quali potrebbero essere nello stato di fatto in cui ci troviamo cioè in una legge che ovviamente come dicevamo prima è un po' anacronistica e non riesce a venire incontro completamente alle esigenze della comunicazione digitale e dei social media però queste norme soprattutto la legge sul diritto d'autore è ancora esistente quindi comunque dobbiamo porci il problema ogni qual volta affrontiamo o comunque vogliamo utilizzare delle fotografie che cosa comporterebbe questo utilizzo forse non tutti sanno che le fotografie si dividono in tre tipologie le opere fotografiche che sono quelle effettivamente tutelate dal diritto d'autore con formula piena e quindi abbiamo una tutela sia del diritto morale qua si vede meglio sia del diritto morale sia dei diritti patrimoniali e che ha una durata tutta la vita dell'autore fino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte con diritti morali senza limiti di tempo e può essere fatto valere dagli eredi però esistono anche le fotografie semplici che probabilmente nella maggior parte dei casi sono quelle che circolano anche su internet e sono quelle fotografie che hanno una tutela ristretta sono tutelati come diritti connessi in parte sono simili ai cosiddetti diritti che spettano l'autore non è previsto il diritto morale hanno vent'anni di tutela dalla produzione la fotografia documentale invece non è tutelata per fotografia documentale si intende fotografie di scritti fotografie di oggetti insomma fotografie dove l'elemento creativo è praticamente inesistente la difficoltà spesso che viene richiesta ai giudici e questo lo dico perché soprattutto noi giuristi alle volte sembriamo pesanti quando parliamo di norme di regole di sanzioni però anche ai giudici viene richiesto uno sforzo che non è indifferente perché chiedere a un giudice di esprimersi sul valore creativo di una fotografia è un'opera che però di fatto succede questo quindi questo succede per esempio nel design che appunto i giudici si trovano a dover definire quando un'opera è una delle cose peggiori che mi capita di fare di spiegare queste cose a chi non le tratta non sono sempre delle persone cattive sono delle persone a cui viene richiesto uno sforzo estremo che magari non sono persone che sono esperte di fotografie magari non sono interessate ma devono stabilire se una foto è creativa o meno non è una cosa da poco quindi questo è quello che dice nel momento la legge è la nostra legge sul diritto d'autore in ogni caso il problema di cui dobbiamo porci quando le vorremmo utilizzare è che qualsiasi diritto allora adesso un po' è cambiato il mondo per cui quasi tutto il diritto d'autore o le opere dell'ingegno erano contenute in un supporto meccanico ora non esiste più nemmeno un supporto meccanico questa è una grandissima distinzione perché rende la materia del diritto d'autore ancora più volatile quindi mentre prima c'era un supporto c'era una dvd film c'era un dvd musicale che noi acquistavamo attualmente probabilmente non c'è neanche supporto meccanico quindi si fa ancora più fatica da una parte a tutelare i diritti dall'altra a pensare che la legge sia sempre applicabile nonostante questo però quello che attualmente c'è e quindi bisogna fare i conti con la legge è che acquistare un file digitale come acquistare un dvd ai tempi del corpus meccanico è decisamente un acquisto che poi non ci autorizza a fare alcun tipo di trasformazione di quel prodotto cioè una coppia una riproduzione un'ulteriore diffusione non sono autorizzate quindi noi questo dobbiamo saperlo perché non è che comprando un file o acquistando un file possiamo condividerlo possiamo trasferirlo possiamo ricaricarlo eccetera eccetera io penso che la normativa quando sarà evidentemente fatta quando ci sarà il momento da trovare politicamente per trovare una soluzione a questo fatto poi verrà applicata e sarà probabilmente una cosa che darà in considerazione tutti i vari usi però al momento effettivamente si applica questo divieto di riproduzione divieto di distribuzione sono tutti diritti che l'autore può cedere però non vengono ceduti con il supporto non vengono ceduti perché viene acquistato un file cioè l'autore può dire bene io cedo i miei diritti si fa un contratto e a quel punto come può accadere per esempio con l'autore di un libro che cede tutti i suoi diritti anche possibili cinematografici di edizione di sequel di prequel eccetera eccetera a quel punto esiste un documento sulla base del quale qualsiasi trasformazione o altra utilizzazione è stabilita che è stato ceduto ma il semplice supporto non è sufficiente allora io volevo poi infatti fare l'esempio di cosa succede per esempio quando compriamo una fotografia a questo punto diciamo cosa possiamo fare con questa fotografia la vogliamo caricare sul computer allora proprio questo è il tipico esempio di che cosa avviene di quali sono le mosse che avvengono con una fotografia che abbiamo acquistato e che vogliamo digitalizzare per dimostrarvi che acquistare una fotografia noi non è che abbiamo il diritto tra virgolette di caricarlo condividerlo e poi farlo trasferire ad altre persone perché infatti l'attività di digitalizzazione del scusate di digitalizzazione del file non lo trovo più ecco digitalizzazione del file caricare della memoria su un pc e poi trasmissione tramite la rete più arriva il destinatario che lo scarica e lo visualizza vi faccio vedere a fianco che ci sono tutta una serie di attività che evidentemente sarebbero in violazione dei diritti dell'autore cioè con la digitalizzazione abbiamo riprodotto illecitamente l'opera col caricamento nella memoria del pc l'abbiamo di nuovo riprodotto o eventualmente trasformata così come l'attività di uploading e downloading dall'opera in rete perché creano una copia della memoria temporale con l'emissione dell'opera via web microfono microfono parla un po' più con l'emissione dell'opera via web abbiamo costituito abbiamo messo in atto una sorta di messa a disposizione del pubblico quindi un altro diritto esclusivo dell'autore ecco mi piace sottolineare che ancora una volta consapevolezza sappiamo che cosa facciamo quando compiamo un'attività banale quotidiana che riteniamo innocua no non necessariamente guardate un po' che riga di cose che facciamo esatto quindi bisogna stare attenti allora due cose la prima è che c'è stato un timido tentativo e inadeguato tentativo nel 2008 di considerare la materia della libera pubblicazione attraverso la rete internet in realtà io sono andata a leggermi tutta la parte del disegno di legge e sembrava che il progetto dovesse essere molto più esteso aspettiamo il regolamento come sai di quello che poi è avvenuto perché questo appunto qualcuno si rese conto qualche anno fa che c'era un problema evidente con il copyright e i social media in generale internet e quindi timidamente ha depositato un disegno di legge Cortiana l'aveva inserito questo coma mi sembra Fiorello Cortiana l'aveva infilato dentro in qualche legge per farsela provare esatto però poi ha disorientato un po' tutti in realtà sì ha disorientato anche il risultato ha disorientato perché di fatto non soddisfa nessuno quindi abbiamo un articolo 70,1 bis che ci dice è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e di musica a bassa risoluzione e degradate per uso didattico e scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia scopo di lucro quindi doveva essere una specie di riforma e sostanzialmente è uscita una piccola norma che innanzitutto è indirizzata solo allo scopo didattico e scientifico e quindi credo ha pochissime utilità per cui vorrebbe essere utilizzata secondo non dà comunque una soluzione alla necessità di scambio veloce di diritti protetti dal diritto d'autore su internet quindi cosa succede che io allora in caso di uso didattico scientifico posso utilizzare delle immagini a bassa risoluzione solo in questo caso mi pare che non sia risposto comunque alla necessità una soluzione ambigua dall'altra parte invece sul discorso delle fotografie qualche consiglio su su che cosa si può fare allora in questo stato evidente e dimostrato di di una legge sul diritto d'autore particolarmente in questo caso non rispondente alle esigenze direi che se qualcuno di noi è intenzionato a mettere delle fotografie su internet probabilmente dovrebbe preoccuparsi quanto meno di indicare il proprio nominativo e la data in cui la fotografia è stata per esempio riprodotta forse potrebbe affidarsi a qualche licenza creative commons in caso che sostanzialmente chiarisca in modo definitivo e abbastanza evidente a terze persone come e in che secondo quali condizioni potrebbe utilizzare questa fotografia ovviamente questo discorso vale soprattutto per le fotografie opere fotografiche però francamente può essere tranquillamente applicato anche alle fotografie semplici dall'altro lato quello che si può quello che si può dire si è di preoccuparsi anche di invece qualvolta dobbiamo fare vogliamo siamo intenzionati a scaricare delle fotografie invece di sapere quali sono le condizioni che le persone che hanno posto le fotografie su internet si sono preoccupate di regolare qui mi collego a quello che diceva prima Elvira perché dobbiamo informare le persone in questo momento bisogna informare le persone di quello che vogliamo fare noi di quello che possono fare gli altri perché la legge non è rispondente quindi se noi vogliamo essere tutelati e vogliamo essere vogliamo che la nostra fotografia possa essere tutelata o possa essere opponibile a terzi dobbiamo quantomeno avere usato delle misure di direi così di minime di sicurezza quindi che possono essere per esempio indicare una data di produzione o anche un nominativo se invece questa fotografia viene messa liberamente diventa più difficile ovviamente riuscire poi a porre delle condizioni sotto questo aspetto quindi ogni qualvolta noi vorremmo scaricare delle foto credo che dovremmo essere molto attenti a vedere se ci sono prima delle condizioni secondo me anche a valutare l'ipotesi di utilizzare licenze creative commons che sono chiare hanno dei segni molto distinguibili e essere pronti invece ogni qualvolta utilizziamo delle fotografie di terzi tutelate da diritti di terzi sia di citare il nome del fotografo o dell'agenzia o del committente che a quel punto a cui aspetterebbero i diritti sia di corrispondere all'equo compenso dove questo sia previsto mi rendo conto che non c'è un sistema rapido per fare questo per cui alle volte può anche essere che una persona non abbia l'intenzione non sia necessariamente in mala fede penso che ci sia poca informazione penso anche che ci siano dei tempi troppo lunghi alle volte per ottenere delle autorizzazioni perché non c'è una legge rispondente quindi in questo senso ci auguriamo tutti che se verrà fatta una nuova normativa in materia sia una normativa che risponde un po' alle domande di tutti alle esigenze di tutti ecco grazie grazie Giovanna allora direi che riemergono un attimo riemergono i temi consapevolezza molto importante poi problema di vecchiezza delle leggi e esistono anche gli uomini un po' vecchi i giudici a cui bisogna spiegare che certe opere sono opere dell'ingegno e vanno tutelate o viceversa io mi trovo con un processo a massa di presunta violazione di diritto dottore di ricette della tradizione della lunigiana ecco mi si contesta di aver copiato la ricetta dei panigacci o dei testaroli per chi frequenta la lunigiana prossima settimana le conclusioni speriamo come la solvano bene saltiamo abbastanza pur parlando di diritto e parliamo della cosa più bella del mondo dell'amore da avvocato Andrea Prato Maria Elena Succetti sembra di essere a Sanremo studio Bernardini De Pace con una bella relazione su amore all'amore e diritto alla famiglia della professora grazie buongiorno a tutti innanzitutto e devo subito correggere il collega perché io mi chiamo Prati e non Prato per quanto possa essere utile ho scritto Prati e letto Prato come informazione chiedo scusa a doppia per prima cosa devo portare a tutti quanti voi i saluti dell'avvocato Bernardini De Pace che oltre a essere il titolare dello studio è anche l'ideatore il reale ideatore nonché responsabile del progetto del nostro studio che andremo ad illustrarvi tra l'altro l'avvocato Bernardini aveva pensato di chiedere la possibilità di collegarsi direttamente forse calandosi alla perfezione nello spirito dell'evento direttamente da casa in quanto malata ma questo non è stato possibile visti i tempi ristretti e pertanto spetta a noi l'ingrato compito di sostituirla anch'io come la collega Berlingeri nonostante avessimo inviato in anticipo alcune slide non le seguirò sia per evitare di tediarvi con quello che è in realtà le norme del diritto di famiglia e sciorinare i numeri e le statistiche delle separazioni e divorzi in Italia sia soprattutto per evitare di abusare del tempo a disposizione l'argomento diciamo del nostro intervento non è quello di illustrare le possibili violazioni con l'utilizzo di internet e di vari social network delle norme di diritto di famiglie quali possono essere eventualmente le tutele contro questo tipo di violazioni ma è quello di illustrare brevemente il nostro progetto di studio progetto che si sostanzia nel blog dall'amore all'amore e che ha avuto e ha come obiettivo quello di sfruttare diciamo utilizzare la rete e i vari social network per far conoscere il più possibile diciamo al grande pubblico il diritto di famiglia considerate che fino a pochi mesi fa giusto un anno fa l'unico rapporto esistente tra il nostro studio e il mondo di internet era costituito dal sito istituzionale dello studio sito dove ovviamente si potevano e si possono visto che esiste ancora avere i nostri riferimenti conoscere le nostre competenze specifiche e i nostri contatti per poter eventualmente servirsi la nostra assistenza legale ci siamo però resi conto negli anni che sempre più spesso ci venivano rivolte alle varie indirizzi forniti richieste di consigli suggerimenti addirittura di aiuti di aiuto la maggior parte delle mail avevano proprio come oggetto e come titolo aiuto seguito da tanti punti esclamativi questo ci ha fatto capire che purtroppo o meglio ci ha confermato che purtroppo le persone si rivolgono all'avvocato esperto nel diritto di famiglia solo nel momento diciamo in cui nella fase patologica della relazione sentimentale che hanno avuto o che comunque hanno in corso per cui abbiamo partendo dal presupposto insomma che secondo noi anche nel diritto di famiglia così come un po' nella medicina prevenire sia meglio che curare abbiamo ritenuto approfittando di un'iniziativa editoriale ossia del lancio dell'ultimo libro dell'avvocato Bernardini De Pace proprio per spiegare diciamo a tutti nella maniera più semplice possibile quelle che sono le norme del diritto di famiglia di creare il blog appunto dall'amore all'amore questo perché per due semplicissime ragioni uno che ovviamente al giorno d'oggi è proprio la rete i social network il territorio ideale naturale in cui le persone possono incontrarsi confrontarsi scambiare le proprie opinioni e sia e soprattutto perché ci siamo resi conti facendo delle breve diciamo ricerche che non esisteva in Italia nessun nessuno spazio gestito direttamente da avvocati del settore che parlassero di questa di questa materia vero che ci sono c'erano e ci sono tuttora numerosissimi forum dove particolarmente utilizzati per quello che può essere valida la nostra statistica più che altro da donne però dove le persone si scambiavano le proprie esperienze i propri dubbi ma senza il conforto diciamo di un esperto del settore abbiamo pertanto creato questo blog dove le persone possono rivolgersi a noi e avere i chiarimenti possibili vero che già da tempo molti studi legali forniscono comunque consulenza online e pertanto anche nella materia del diritto di famiglia però sono dei veri e propri pareri non sono scambi di battute immediati non c'è un'immediatezza è come praticamente prendere un appuntamento e andare a parlare direttamente a quattro occhi con con l'avvocato e quindi abbiamo aperto appunto questo blog proprio per poter fornire un aiuto un supporto anche spesso e volentieri solo un consiglio o un attestato diciamo di comprensione di quelli che sono i problemi di chi si rivolge a noi si può dire che più che un social network abbiamo aperto un network di tipo sociale insomma detto questo abbiamo visto in effetti che in questi mesi di vita del nostro blog le richieste di aiuto sono parecchie quindi forse era davvero opportuno quello di creare un di crearlo e di creare questo spazio gestito appunto direttamente da degli avvocati esperti del settore che si occupassero del diritto di famiglia perché chiaramente è un tipo di diritto con la quale per forza nella vita si ha a che fare basta pensare che è sufficiente nascere per diventare soggetto di diritto di famiglia il funzionamento io credo di poter di poter dire che i motivi comunque di questo del buon funzionamento dei numeri almeno che poi vi illustrerà la dottoressa sulcetti si danno per il momento ragione di questo diciamo proliferare vero e proprio delle domande si sostanzi in quattro elementi essenziali uno mi ripeto è il fatto che la risposta viene data da chi comunque ha dimestichezza con la materia due il fatto dell'immediatezza non c'è bisogno appunto di prendere l'appuntamento aspettare magari giorni per poter parlare con l'avvocato poi tornare fornire il materiale necessario e tutti gli strumenti per potergli dare le risposte ma è ovviamente diretta la richiesta a chiunque gli salta in mente diciamo può rivolgersi a noi è bene chiarire che sì l'immediatezza ma ovviamente il blog è anche mediato nel senso che non è libera la possibilità di scrivere fare le domande sia per evitare diciamo di entrare in temi che a noi non competono e di cui non abbiamo le necessarie conoscenze per dare delle risposte esaustive sia anche per evitare il rischio insulti vi lascio immaginare quante magari ex controparti potrebbero coprirci di insulti per cui non vengono chiaramente pubblicate l'aspetto in realtà gli altri due aspetti che danno diciamo successo alla nostra idea al nostro progetto sono innanzitutto l'assoluta gratuità della possibilità di avere comunque dei consigli e delle nozioni utili e soprattutto il fatto che tramite la rete vi è una riservatezza della persona la persona non ha la necessità di fornire tutte le sue generalità e che possa venire identificato questo lo abbiamo visto soprattutto per il tipo di domande che vengono fatte e ci vengono rivolte vi posso garantire che ci vengono raccontate delle esperienze e delle cose che avvisavi durante gli incontri e le riunioni e le consulenze solo al terzo o quarto appuntamento quando si è conquistata definitivamente la fiducia della persona ci vengono raccontate giusto per fare un esempio che è piuttosto attuale le violenze subite in famiglia vi lascio la parola alla dottoressa Sucetti che vi spiega in maniera un po' più tecnica la struttura e il funzionamento del blog allora arrivo alla slide così diamo un'occhiata nel concreto ecco questa è la nostra pagina iniziale del sito come vedete è diviso in aree tematiche quindi abbiamo fidanzamento e convivenza matrimonio separazione divorzio figli successione donazioni quindi tutti gli utenti possono decidere qual è il loro argomento di interesse fa tutto parte del diritto di famiglia e della persona e tramite ogni area tematica c'è un accesso dove possono decidere se andare a vedere dei casi concreti che quindi sono dei casi veri o verosimili che l'avvocato Bernardini De Pace ha in passato conosciuto e quindi che racconta ovviamente con dei nomi fittizi oppure ci sono delle lezioni che sono anche tratti dalla parte del libro dall'amore all'amore dove viene raccontato in modo colloquiale diciamo come funzionano questi istituti che cosa vogliono dire eccetera c'è la normativa che è la normativa di riferimento quindi da codice penale civile di procedura e poi ci sono le domande e le risposte che sono la parte fondamentale per quanto riguarda il networking appunto che è quello di cui stiamo parlando e come vedete ci sono domande risposte quindi questa è una finestra dove le persone possono direttamente rivolgersi a noi che poi siamo un team che fa parte dello studio dell'avvocato ovviamente poi tutto passa tramite l'avvocato che approva ogni singola domanda eccetera quindi è un lavoro anche abbastanza dispendioso in realtà e quindi come diceva giustamente l'avvocato Prati la gente si sente anche abbastanza libera tramite questa schermata di esporci i suoi problemi soprattutto una tematica importante come quella della violenza delle donne spesso le donne non hanno nemmeno il coraggio di denunciare a noi arrivano tantissime domande su come si può fare per difendersi eccetera abbiamo anche altri modi per interagire sul sito per esempio la finestra e la sondaggio opinioni che è molto divertente e anche abbastanza immediata perché vengono poste delle domande semplici e solo cliccando col mouse si può scegliere quale secondo me è la risposta ideale per esempio io stamattina ho risposto un paio dove chiedevano quanti figli quant'è il numero ideale di figli all'interno di una famiglia uno poteva rispondere due o tre o quattro e c'erano tantissime risposte in realtà quindi questo fa capire che è un argomento di grande interesse siamo tra l'altro l'avvocato è presente anche su facebook con la pagina dall'amore all'amore e anche qui arrivano parecchie domande è un account twitter che però è di tipo personale per vedere velocemente un paio di dati la media di visitatori unici al mese si al mese è di 6500 visitatori quindi il sito sta salendo di notorietà di giorno in giorno infatti fino adesso abbiamo già pubblicato più di 150 risposte alle domande che ci sono state fatte ma ce ne sono state fatte più del doppio cioè comunque la gente continua a chiedere eccetera le aree di interesse sono fondamentalmente al primo posto la separazione proprio perché è la parte più problematica quindi quando la gente non si ritrova non capisce che cosa deve fare quali sono i suoi diritti eccetera e quindi si rivolge direttamente all'avvocato per chiedere dei consigli poi abbiamo i figli matrimonio divorzio successione alla fine fidanzamento questa è una schermata e questi sono va bene gli sviluppi futuri che potrà avere un blog come il nostro basta credo che ho finito perché ho finito il tempo grazie mille sì un applausino un plausone sarebbe è un tema molto interessante questa che riguarda noi avvocati studi legali e comunicazione magari ne parliamo prossimamente con Massarotto in separata sede e facciamo qualche cosa bene siamo giunti quasi al termine della nostra sessione del nostro panel abbiamo un paio di minuti scarsi ma vediamo un pochettino per eventuali domande sui temi che abbiamo trattato se qualcuno avesse se qualcuno che alza la manina ecco allora ci serve un gelato vi lo diamo grazie allora chi facciamo la domanda a tutti o qualche uno in particolare così lo additiamo subito sì buonasera si sente? sì fino adesso abbiamo sentito un po' forse la signorina dovrebbe parlare un pochettino un po' più forte grazie sì più vicino dalla legge davanti all'utente e anche dalla parte di come ditta quello che le riguarda sì dell'autore certo sì dell'autore e che fine ha fatto la legge da prima non davanti da prima prima di uscire con una una plataforma una website o personalmente non l'ho capito benissimo non so se avete capito voi ecco allora noi abbiamo parlato della legge di due punti di vista sostanzialmente dell'autore produttore della major eccetera eccetera dall'altra parte invece dalla parte dell'utente in mezzo dall'autore dalla parte dell'autore di chi detiene i diritti chi comanda come dire quello che ho sentito quello che abbiamo sentito è soltanto quello che ancora manca nell'Italia un po' di sviluppo che riguarda la parte dell'autore che sia più tutelato l'autore no ok scusatemi il mio italiano un po' così non c'è problema no in realtà l'autore è tutelato il problema sono le forme di opere dell'ingegno che sono tutte insieme tutelate in una stessa legge che evidentemente non le può più contenere tutte soprattutto tenendo in considerazione i nuovi mezzi di comunicazione quindi sotto questo aspetto non è che l'autore non sia tutelato è che soprattutto nelle nuove tecnologie è come se ci fosse se mancasse qualcosa cioè o l'autore si preoccupa costantemente di mettere warning attenzione di tutelare se stesso se no diventa difficile diciamo potersi tutelare attraverso degli strumenti giudiziari ecco non è uguale la protezione di dati personali non lo so diversi dati ci sono delle differenze fra dati non è uguale un dato di salute per esempio nel settore della salute della medicina a un settore personale che ne so io metto nome cognome però non è uguale nome cognome a dati di salute nel senso la legge che riguarda parliamo di due differenti argomenti però attenzione prima stavamo parlando di opere dell'ingegno un quadro una musica qualsiasi cosa adesso abbiamo introdotto il tema dei dati personali sono due argomenti molto diversi disciplinati in maniera molto diversa devo dire lo posso riassumere per tutti che il diritto d'autore è regolato da una legge vecchia sebbene ritoccata di recente mentre invece la privacy dei dati personali è costantemente aggiornato ancora la cosiddetta cookie law e voglio dire roba di quest'anno dell'anno scorso il decreto legge noi penso che siamo tutti d'accordo chi tratta questa materia che riteniamo che sia dalla parte dell'autore sia dalla parte del fruitore la legge sia un po' vecchia da rivedere un pochettino comunque diciamo che la privacy è anche un'autorità garante che comunque è una cosa nuova ma che si può attivare molto più velocemente che non attivare un giudizio di merito volevo sapere soltanto qua nell'Italia come funzionava no sono proprio due settori diversi si accavallano perché nel digitale nei social media c'è un insieme di dati e ci sono insieme delle opere che sono tutelate dal diritto d'autore quindi sono dei settori che si incrociano diciamo però sono anche settori distinti perché come prima spiegare Elvira se vuoi direi tu come cosa su questa parte del questo è un problema perché qualsiasi cosa che sta su internet è un file che è un contenuto che però è anche un dato personale che però è anche un mezzo della libertà di espressione cioè le interpretazioni possono essere tante a seconda dal punto di vista che ti interessa allora va capito un attimo cioè non solo la consapevolezza di quello che si sta facendo ma anche una finalità ok di dove voglio arrivare perché voglio usare questo mezzo invece che un altro perché ci possono essere situazioni in cui un autore per esempio è molto più tutelato da un'attività tradizionale offline ok magari quindi a continuare a cercare il solito canale tradizionale con una casa produttrice oppure con un editore invece di provare il mezzo web probabilmente nell'ottica protettiva di un autore quello che potrei consigliare nell'utilizzazione di internet visto che le leggi sono complesse e molte volte inefficaci è utilizzarlo per diventare popolare cioè riuscire ad avere una certa rilevanza ok che può dare una garanzia a un editor o a qualcuno che investe economicamente su di te la consapevolezza che c'è qualcuno che effettivamente questo tuo contenuto lo viene a vedere lo viene a sentire quindi visite che si conteggiano che non so su youtube visualizzazioni di un'immagine riblog se usa un tumblr via così però chiaramente rimane la monetizzazione e la tutela vera e propria ancora un canale tradizionale ecco io penso che sia bellissimo il parallelo che ha fatto prima Giovanna tra Madonna anni 80 diciamo invece Lady Gaga 2000 e oltre come ci si pone diversamente nei confronti della rete ecco quello è stato un paragone molto bello grazie qualche un altro sì per il dottor Dragotti volevo chiedere la legittimità della condivisione di contenuti multimediali che sono già stati trasmessi pubblicamente praticamente un'applicazione di quella che è la sentenza la storica sentenza Betamax sulle videocassette grazie allora la sentenza Betamax ha un pregio e un difetto il pregio è che è molto approfondita e ha aperto la strada a un intero settore che è il settore dell'home video che ha fatto prosperare le case cinematografiche per un quarto di secolo ha un grosso difetto è americana quindi non vale in Italia telchel alcuni principi possiamo mutuarli ma non si può invocare in Italia non mi riferivo all'invocazione della legge Betamax che è statunitense logicamente in Italia ma se ci sono delle possibilità in Italia di applicazioni di norme simili che consentano la condivisione o la fruizione in tempo in tempo differito di contenuti liberamente trasmessi banalmente una volta si faceva con la musicassetta registrata dalla radio ci si scambiava anche la musicassetta registrata alla radio ed era tra virgolette legittimo purtroppo no purtroppo no nel senso che ci sono un po' troppe virgolette purtroppo la gente non sa che non è legittimo non era legittimo non andava a toccare direttamente il mercato dell'audiovisivo perché era di qualità la riproduzione era di qualità talmente bassa e destinata a degradarsi sul tempo per cui non c'era questa attenzione io credo che la risposta giudiziaria alla sua domanda la ritrova leggendo la sentenza Mediaset Streaming che citavo prima dove si affronta proprio questo tema in senso del divieto di ripubblicare riconsentire la fruizione di contenuti resi disponibili in questo caso nei circuiti televisivi ma poi circuito televisivo rete rete ultima fruizione quindi il segnale è negativo se però dobbiamo guardare la sentenza Betamax appunto tenendo conto che è di un altro ordinamento a me sembra che sia passato e stia passando sempre di più la percezione del fatto che lo strumento in quanto tale lì era il videoregistratore qua parliamo di altri strumenti lo strumento in quanto tale la vendita dello strumento la circolazione dello strumento in quanto tale non può essere impedita solo perché alcuni suoi usi possono incidere sul diritto d'autore non so se su questo d'accordissimo appunto quella sentenza dice non si può vietare il videoregistratore perché è uno strumento neutro perché serve può servire per una riproduzione abusiva ma anche per riprodursi il filmino delle vacanze è una cosa che appartiene a noi chiaramente ecco anche se poi lì andremo a parlare di mod chip per le playstation sai che qualche d'uno l'aveva invocata io credo io credo che se vogliamo parlare veramente allontanarci un po' dalle aule di giustizia e parlare un po' di trend per come li percepisco io che potrei avere una visione falsata ovviamente noi siamo passati da un approccio alla Betamax che ripeto ha creato l'industria dell'on video ha un approccio di segno di opposto meno liberal se mi passa il termine che è quello Napster dove anche lì una tecnologia che poteva avere diversi usi è stata però ritenuta illecita e oggi a mio personalissimo parere ci stiamo però di nuovo muovendo verso una consapevolezza che impedire l'uso degli strumenti impedire la diffusione degli strumenti alla fine danneggia bisogna andare a colpire ed era un po' il senso del mio intervento frettoloso i singoli usi illeciti nel momento in cui i singoli usi illeciti vengono perseguiti c'è più spazio per affermare la liceità in cui io credo degli strumenti tecnologici e delle soluzioni tecnologiche ci dicono che dobbiamo salutarci semmai i relatori rispondono privatamente ecco così ci pettiamo ringraziamo pubblico caloroso bella gente come si dire grazie buonasera